Buonasera, questo è il libro di oggi. Olivero Toscani, Non sono obiettivo, Feltrinelli 2001 nella collana universale economica. 192 pagine, 12 straordinari quanto insoliti ritratti realizzati dal figlio Rocco. Olivero Toscani è conosciuto tutto il mondo, è conosciuto soprattutto per le sue campagne pubblicitarie della Benetton, per Natale Valentino, ha vinto numerosissimi premi, tra cui anche al Festival di Gallo 1989 un leone d'oro per uno spot pubblicitario televisivo. Gli piace qualimizzare, ama castigare i costumi del nostro tempo e questo libro ne è un esempio. Nel 91 è direttore della rivista Colors, nel 93 è direttore del centro ricerca comunicazione Fabbrica. Questo libro inizia con queste sue parole, ho vergogno di appartenere alla razza umana, puntini, puntini, puntini. Buona lettura a tutti.